Secondo l'Associazione Difesa Consumatori, i saldi invernali al via nelle prossime ore vedranno sia una maggior presenza che un budget più alto rispetto agli scorsi anni. L'indagine di Adico, che ha coinvolto circa 200 consumatori mestrini, evidenzia una crescita del 5% del numero delle famiglie pronte allo shopping in promozione. Nel 2015 era il 55%, quest'anno siamo intorno al 60%. Per quanto riguarda il budget, spendibile nelle settimane di saldo si è passati da una media di 335 euro a 350 euro, con un aumento del 4,5%. L'85% della spesa è concentrata su abbigliamento e calzature. Quest'anno, denunciano dall'Associazione, fra sconti alla cassa per i clienti più affezionati e promozioni varie, i saldi sono cominciati di fatto da giorni, praticamente ovunque. Abbiamo monitorato 28 negozi, di questi 24 hanno già iniziato a praticare i saldi da qualche giorno, per cui una vigilia relativa, ma comunque si respira un'area di buon affare, per cui la gente con entusiasmo ed ottimismo sta aspettando queste ore di fare gli ultimi acquisti. E alcuni consigli per evitare brutte sorprese durante il periodo dei saldi? Difidare dei sconti superiore al 60-70%, verificare che la merce esposta non sia un avanzo di magazzino o di qualche anno precedente, soprattutto conservare lo scontrino perché è l'unica cosa che può permetterci a noi di poter sostituire il bene qualora questo abbia dei difetti.